Questo è il mazzo, il mazzo si chiama Zoo perché Z sta per Zarro, O sta per Oddio e altra O sta per O che cazzo dici Bentornati in ultima puntata di questa settimana, oggi è venerdì Abbiamo in contemporanea dalla Spagna, Deza e dalla Bulgaria, Johnnie Ridammi il rame, me l'ha rubato, mi ha rubato il canale Il nostro Darfo farà la sua magia e non verranno mai registrate Fai una magia in tre con la forza del Napoli Cazzo ma questo è uno spoiler allora Va bene, allora questo è il mazzo, il mazzo si chiama Zoo perché Z sta per Zarro, O sta per Oddio e altra O sta per O che cazzo dici Tutto insieme, una crasi bella lunga Ok, questo mazzo è stato proposto da Deza, intanto che andiamo a vedere Deza che gioca a questo mazzo Vai Deza! Noi diciamo il mazzo Quindi abbiamo due ritrovi al proibito, punto Siccome è proibito, adesso non si può dire Potete dire travolgente, va bene Basta, fine No, no, basta, non devi dipendere Niente, niente Allora, come fai a dire? Dico, Marco Rossi sei Sei Perché ha appena perso il rank Perché fa schifo Allora, questa non è una brutta mano, signor Deza Perché abbiamo un bel taunt, un bel 1-1 e un bel 2-2 che fa un po' l'1-1 Che non è forte quell'1-1 lì, mi piace un sacco Si, anche bene Foil poi, merda là, è pazzo Pada ganso! Abelina Foil! Pada ganso! E i figli racconti a quello? Per gente pescato Guarda come vengo curioso lì Vero Sembra una testa lunghissima Eeeh... taunt? Dai per forza Danna, se mi suda Ah, in realtà c'era un'alternativa Lupo? No Non scherzavo Adesso peschiamo un drop a 1, per favore, mazzo Mazzo, un drop a 1 Veramente vuoi andare di yolo? Lupo? No, vabbè, vado di lupo trade Si Sarei andato comunque di lupo trade Ma con un drop a 1 sarei stato più contento Perchè avrei fatto un altro pezzo Eeeh... secondo me La bestia dell'ombra è uno dei disegni più belli di questa cosa A me piace chi la evoca Non la bestia insieme La bestia dell'ombra è un bel disegno Devo essere sincero Mi piace un sacco Dera, devi rischiare Lanciatore? Lanciatore No, in realtà non ti cambi niente Ops, ma hai partito il lanciatore per sbaglio Vabbè, devi trattare per forza con quei due Ma il pugnale lo devi fare Vabbè, perfetto Cambia poco Temo swipe Eeeh... oh Io che di solito performa molto meglio sto pazzo Sto vedendo una mano veramente brutta Io lo faccio Si Si Non so Lui può fare Forte, forte, forte Mi piace Questa carta è veramente grezza E' molto bella In un Zulok Poi stupendo Ti ho fatto sudare i tre danni sul tuo pezzo? Eh? Si, infatti Vabbè, avrei usato il paesano posseduto Bello anche il disegno dei tentacoloni Non ha swipe F*** Eh? Il primo swipe E te lo risolvi così Uno a caso Si, si Pesco Aspetta Lo voglio bene a sto mazzo Oh, vieni Nocturne a 13 Nooo Però... E' della settimana E' messo male Beh, io mi sento tranquillo in questo momento Vabbè, se c'ha swipe Ah, se c'ha swipe Intanto facendo swipe si prende altri danni in faccia Ah No 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 Come forte sta carta Come forte sta carta Anche questa Anche questa Anche questa E la giocherai proprio Si Pesco prima? No, perchè giochi anche Taunt Gioco difensore di Argus Si Giochi lui Ti tradi un 1-1 E poi hai spazio per giocare Argus dove devi scegliere però Lo metterai fra l'1-1 e il 2-4 Prima tradati il paesano probabilmente Vedi se ci va il pugnale sopra No Il paesano lo tirerei per Argus No Ok Quindi sono Metti Argus Posso baffare il 2-1-1 No, esatto Puoi mettere Argus in mezzo di 1-1-1 e tradare Posare l'ora? Si Invece Invece mai una gioia Vabbè Esatto Hai sicuramente un rating migliore di noi questa mese quindi sei tu il capo Boh Hanno stravolto il meta Boh Boh è un'ottima motivazione Un'ottimo Fulcro dell'algoritmo dell'algoritmo dell'argomento Io ho giocato solo una volta contro Rogue Ora siamo contro Rogue L'algoritmo dell'argomento è difficile Va bene Ehm Quindi il rituale probito lo droppi Punti 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 Fortissima Si E' fortissima Quella carta fa paura Fa C'è stata una partita che ho fatto lui di terzo No scusa Si Imp Gang Boss Imp Gang Boss di secondo Con Coil Poi faccio Lui di terzo Trado Evoco E l'imp Quindi si potesse E Non te l'audio C'è la tutelina la Ok Questo è palesemente C'ha il ventaglio di lame Quindi io tiro Non faccio un altro drop a uno Ma vado così Bravo Come scusa? Tira counter spell Eh Siamo Warlock Quindi la vedo veramente ardua Tira counter spell lo stesso Beh Ma andare a pescare E' brutto il matchup secondo me col Rogue Si L'ho giocato poche volte ma è brutto Ma è una gioia Lo faccio il sergente o no? Eeeh Non lo potrei Invece C'ho il più 4 più 4 per tradarlo Si si fallo Fallo perchè ti Per il gigante? Si Se non avessi pescato il gigante probabilmente non l'avrei fatto Ho giocato una carta finora Però sta a 16 al quarto turno Gli bastano A quanto pare Perchè ora fa il coso La gente mi sa Eh infatti Che palo Peschi Beh Lo giochi? Per forza Lo giochi e usi Mi fa schifo come giocata però Spero non abbia taunt in giro quindi Mamma mia che brutta sta mano Ti serve un rituale in questo momento Wow Il rituale ci ti porta in game con una velocità imbarazzante Ma il rituale fa danno su una creatura? No no Evochi Evochi Ah ok Quale è il rituale? E' quello del mago quello che pensavi tu Ah ok ok Peschi Evoca fino a qua Ah giusto 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 Scusa scusa No è Ero rimasto a implosione Colpa mia Eh no Il rituale costa 0 però non fa danno Si si ok Secondo me è comunque forte Cioè tanto forte guarda Se fosse un bel disumano se facessi anche danno Si infatti Cioè me è scazzatolo qui Oh penso giochi Yog Rog Il fatto è che Sì 2.88 su un palo Però Ora posso giocarli Eee Lo giochi Gioco Losco Si Io avrei giocato l'alto 8 Passat Cosa prendo? Boh Era meglio se pescavi prima Hai ragione È troppo tardi Cosa prendo? Eeeh Corruzione guardiana sergente Forse corruzione è la migliore Perchè? No pusciamo danno Sergente Sergente Eeeh Bad situation davvero Eeeh Bad situation davvero Cosa Eeeh Ho 10 danni in tavola Devo pescare difensore di argus ma non mi salva nemmeno Provo 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 Pensore Eeeh Ci sta il terzo game Ci sta il terzo game Perché abbiamo già persi due No Uno vinto uno perso Si ci sta il terzo game comunque Ci sta Scusa Fallo con la modifica a questo punto Intanto aspettiamo Eh Troppo tardi Ok Too late E intanto da prima apri una bustina e trovi una leggendaria verrà scritto in basso a sinistra Guarda Se la trovo Checco vado via No Niente Niente Merda Checco fallo te? No darpo Eeeh Bella Bella Questa è proprio Bella Leggendaria Bella Posso chiudere Basta Sono triste Ok Questa mano è più bellina La partenza è sempre carina Madonna Si è bella Forte quella carta Ma lo giochi di secondo? Ah Penso di si Perché non l'osco? L'osco dici? L'osco si Ci sta di più Poco dell'anima e ammazzo l'1-4 Si Se no mi rompe i coglioni all'infinito Non lo puoi fare adesso però Ah si c'è una gemmina C'è una gemmina C'è una gemmina Sicuramente secco comunque l'1-4 Secondo me Però Io non avrei preso potere dell'anima Si Cosa vi lascio l'1-4? No Ce l'avevi la risposta in mano per quello Avrei preso un'altra carta No Mi piace fuoco dell'anima Eh dai Tira fuoco dell'anima Però C'è Parte il golem Il gigante Parte il gigante Posso dare il potere Usa il potere? Allora Se hai preso il fuoco dell'anima L'hai preso per Usarlo adesso Parte il gigante Perfetto No Peccato Perfetto La stradalpo non ha picchiato questa malta La stradalpo in realtà dice sempre il caso pessimo Mmm Vede giganti con una frequenza imbarazzante Ehm Ischi Più 4 più 4 No Non ti devo ascoltare Devo giocare l'imp 4 più 4 su Quella sinistra Non mi piace Non devo ascoltare Rimane comunque un pezzo Due pezzi Due pezzi Un pezzo c'è nel senso Un pezzo ti rimane Non è che more Se ne va Eh lo so ma volevo valorizzare il ministro di Borgo Oscuro Vabbè faremo ministro in tu imp delle fiamme Ministro è pure un 1-5 Cioè è sbroccata sta carta Si è forte Veramente forte Ho un corpo comportato Si ministro in tu imp delle fiamme Cambiate idea Perché? Perché è più forte avere prima lì che un boss che ti genera i token Nooo ma adesso teccavi la parola proprietà Come si chiama lei? Che mi avrei comunque fatto per rissa Meno Devi stare zitto Se no non ti bene arriva lo yogurt Va bene? Io? No ma parlo con questo accanto a me Che fa dei rumori strani Faccia dei rumori molestri Che mazza è stato questo? Non lo so Eh Boh Io faccio Ministro Ministro E mangiafuoco Manca la carta Pinocchio No mangiafuoco Mangiafuoco sei una delusione Mamma mia Ma è una gioia mangiafuoco Vabbè dai Sono comunque contento Della situazione del boss Ministro Che ci hai detto? Manca? Manca la carta Pinocchio no? Cioè mangiafuoco E' un po' Madonna che freddure Cristi Oibò che umorismo Mamma mia Execute Execute Su un 2-4 Il terrore dei terrori Madonna Sti palidi Giganti di Ma è un po' Spurale Ha pulito Pesco 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 Mangiafuoco lupo EU Se gioca pezzo puoi giocare 8 volte Un profisco non giochi pezzo Perché se gioca pezzo vuol dire che qualcosa di forte Prefisco faccia Faccia Si Dicevi Già che comunque l'ho tolto No Si Si Scusa il mangiafuoco O ho avuto il lupo Il lupo Ehm No Mangiafuoco scusa Cazzo dici Perché Perché Il lupo è un altro whirlwind Dopo te lo ammazza Ma è convinto Ma è convinto Ma è convinto Uno C'è il goal C'è certamente tanti Adesso di un danno Edelwarrior Ah è vero c'è il goal E' aperto in monocopia Quindi non vorrei che fosse Rena Uh What? Allora è un What? Si Pesco Argus Argus Tizzi Argus Tizzi Argus 2-1-1 Lo so che è brutto giocare così ma Mettili allora Mi servono Piuttosto dai tipo potenzia all'8-8 e poi metti Argus in mezzo Eh? Almeno così c'è due count E come faccio? Usi No Non usi rituale Usi Sergente Sergente Bell top deck da parte sua Mamma mia ragazzi Alcuno non si comanda Eccoci Lanciatore in questo momento voglio O lanciatore o siamo veramente inculati Mamma mia ho No sciame Peschi Che brutto questo limpa Non posso fare il limpa delle fiamme perché sennò sono morto Si Continuo a ripetere che il limpa delle fiamme è una pessima carta Ma ti pare che perdo da sto cazzo di 7-1? Cioè di 7 che caga gli 1-1 Si Hai rotto il cazzo però eh Mi sta sfondando il deretano Eh caro mio Deza ne è voluta fare un'altra E adesso Ne paghi le conseguenze Comunque questo è il mazzo su proposto a Deza Era forte fino ad adesso Aveva millantato che questo era il mazzo più forte Nei suoi possedimenti Ero 14-5 Ora sono 14-7 15-7 ne è vinta una No Sì Ok Va bene Quindi grazie di aver seguito La settimana prossima con Chi lo sa Uno yogurt Dove Di Opposto Fate Espremos Tutti Un Scherm OUT ün Di Un Det fatto Vivriage Cazzo Bene Abnormal In B F Di Rip